Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'Uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò, anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. In questa seconda Domenica di Avvento noi leggiamo proprio l'inizio del Vangelo di Marco, che è il Vangelo di quest'anno, il Vangelo che ci accompagnerà in tutte le domeniche insieme a delle incursioni del Vangelo di Giovanni. Marco è l'inventore del genere letterario Vangelo, è il primo, secondo l'esegesi moderna, che scrive un Vangelo. Gli altri poi copiano da lui. E allora abbiamo ascoltato la prima riga, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Inizio della buona notizia. C'è un nuovo inizio, c'è una nuova creazione, c'è un nuovo principio, come già la Bibbia comincia con le parole in principio Dio creò il cielo e la terra, così qui c'è una nuova creazione che inizia. E inizia con una buona notizia, la buona notizia che è Gesù. Ma questa buona notizia, che ci arriva in una persona, ha bisogno di trovare una strada aperta. Ecco perché oggi risuona fortemente, con le parole di Marco, la voce di Giovanni Battista, appunto il maestro, uno dei maestri, dei profeti dell'Avvento, il quale grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ecco, ci chiede di preparare la strada, lo ha chiesto allora, lo chiede sempre. Questa è la missione di Giovanni per tutto il tempo della Chiesa. quella di preparare il cuore, di raddrizzare la strada, come quando si preparava la strada fisicamente alla venuta dell'imperatore o di un grande personaggio che veniva a visitare la città, come oggi quando viene il Presidente della Repubblica, si asfaltano tutte le strade o quando passa il giro d'Italia, così dobbiamo preparare le strade del cuore. Infatti Giovanni predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati e dice, viene uno più forte di me, uno più grande. Il mio battesimo è una preparazione, è un modo di incontrare colui che invece battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco, viene qualcuno che può davvero cambiarti la vita perché ti immerge nella vita stessa di Dio che è il suo Spirito, che è il suo amore. Prepariamo le strade in questo avvento. Troviamo più tempo per stare con la parola di Dio, per leggerci il Vangelo o la scrittura antica. Troviamo il tempo per entrare nel nostro cuore. Siamo dispersi, siamo presi da tante cose, ma siamo anche più chiusi in casa per dovere e allora stiamo con il Signore, prepariamo a Lui le strade del nostro cuore.